Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, buongiorno Buongiorno a voi. Sindaco reduce anche dagli eventi organizzati per il Capodanno, c'è chi parla di grandissimo successo, chi parla di un Capodanno normale, resta di fatto che sono stati tre giorni che hanno comunque allietato le festività dei Teramani e non solo. Io direi che noi quando abbiamo iniziato questo dicembre avevamo un obiettivo, sicuramente non è un momento facile, viviamo anche da un punto di vista psicologico, sta un momento di tensione, un momento anche di scoramento per tutto quello che succede. Purtroppo abbiamo tante famiglie negli alberghi, abbiamo tante famiglie nell'autonoma sistemazione, quindi secondo me c'era bisogno un po' di tenere su il morale, se così possiamo dire. Quindi abbiamo fatto questo programma che è partito l'8 dicembre con la scelta di fare quella fiaccolata e terminerà il 6 gennaio perché ci sono ancora eventi che ci saranno e l'obiettivo era questo che poi ovviamente culminava nel Capodanno perché comunque è la serata in cui bisogna festeggiare così quasi. Mi scusi Sindaco, lei, il Comune ha le cifre della partecipazione soprattutto alla notte di Capodanno con Giuliano Palma e poi con i sostavietà, insomma la manifestazione è più della tre giorni. Ma guardi, io non ho le cifre ufficiali anche perché diventa difficile sapere quante persone c'erano. Indicativamente? Indicativamente la piazza era piena, la gente c'era, ora direi che ne erano 2.000, 3.000, 5.000. Questo è il momento in cui lei ha festeggiato la mezzanotte. Quindi poco, cioè nel senso le persone c'erano, i cittadini sono venuti, Giuliano Palma ha fatto divertire e ballare. Qui vediamo Briga che c'è stato invece nel concerto di Capodanno, inteso il concerto proprio del primo di gennaio che è stata forse la novità assoluta. Non si era mai fatto una manifestazione la sera del primo dell'anno. È stata una novità perché insomma abbiamo pensato alla fine di accontentare un po' anche quelli più giovani. Ora questi sono quelli che vanno per la maggiore. Su Briga però qualche polemica, sindaco, c'è stata, non nei numeri perché i giovani c'era, i ragazzi hanno cercato di fare le foto con l'artista che non è stato, mi dicono, molto disponibile con tutti. E poi il concerto è durato davvero molto poco, ma era nel contratto oppure è durato poco perché non aveva... Il concetto di Briga per contratto dura 45 minuti. Ah dunque era nel contratto che non doveva durare, che in molti se lo sono chiesti. Poi Briga tra l'altro voleva risiedere sul palco ma dietro c'era un assembramento di ragazzine che non hanno permesso di farlo riuscire a fare ancora due pezzi. Vabbè ma insomma questi sono come direi questi rapper che vanno adesso per la maggiore. Però dicevo nel complesso, al netto del fatto che il 31 la gente c'era, ma ora non è che dobbiamo stare qui a contare uno in più, uno in meno l'anno scorso, due anni fa. Ma voglio dire, io credo che organizzare a dicembre, soprattutto adesso, in centro storico, una serie di eventi. Ieri sera Nicoletta D'Ale si è esibita ancora una volta. C'erano cittadini che passando per il corso si sono fermati ad ascoltare Nicoletta che ha fatto un bello spettacolo. Abbiamo fatto il presepe vivente grazie agli amici di Miano che hanno accettato il mio invito di venire a Teramo e portare il presepe vivente. Ci dica un po' Sindaco, tornerà a Miano questo presepe o rimarrà a Teramo? Tra l'altro in questo caso possiamo parlare di successo, di grande successo, perché la gente è venuta a vedere il presepe in una location davvero suggestiva. Questo è il mio punto di vista almeno. Ma guardi, il presepe è di Miano e si fa a Miano. Quest'anno non si è potuto fare a Miano per via del terremoto. E' chiaro che si potrebbe trovare una soluzione salomonica che è quella di fare due rappresentazioni, una a Miano e una a Teramo. In due date diverse. In due date diverse potrebbe essere un'idea e magari farlo crescere ancora di più questa bellissima manifestazione. Gli amici di Miano sono davvero bravi. Faccio ancora una volta i complimenti perché oramai hanno sviluppato una maestria, una capacità di ripercorrere un po' la storia della nascita di Gesù Bambino in maniera magistrale. Sono bravissimi, io tra l'altro ho partecipato otto anni consecutivi perché ritengo che sia anche bello. Ma davvero sono bravi. Quindi è chiaro che non appena Miano potrà riospitare il presepe tornerà a Miano. Però si potrebbe anche valutare di fare due rappresentazioni. Tornando al discorso, tutto ha contribuito secondo me a movimentare un po' la città. Ecco il sindaco, lei era uno dei re magico. Io faccio quello che mi dicono di fare, non ho mai scelto il mio ruolo. Sono loro che mi assegnano il ruolo e io lo mantengo. Però voglio dire, io ho sentito anche soddisfazione da parte, certo, magari un target di cittadini che vengono interessati, anche se abbiamo fatto spettacoli intorno alle 5.30 e alle 6, poi quelli delle 21 per cercare un po' di allargare il capodanno dei bambini. Del primo è andato alla grande, tantissimi bambini erano in piazza. Quindi io direi che l'obiettivo che ci eravamo prefissati è stato raggiunto. Si può sempre fare meglio, certo, perché si può sempre far meglio. Magari si poteva far venire un ospite ancora più importante di Giuliano Palma. Però è chiaro che poi è sempre un problema di risorse. Quindi io devo dire che siamo soddisfatti. Ma poi Giuliano Palma a Teramo sarebbe già dovuto venire qualche anno fa, quando con Guido Campana si era parlato di far venire Giuliano Palma. Poi venne Paolo Belli. Quindi, voglio dire, abbiamo cercato di, come dire, di gestire al meglio questa situazione. Sindaco, sulle polemiche, sì, lì abbiamo visto lei e suo figlio, l'assessore Canzio, che diciamo insieme a lei si è dato da fare per organizzare il capodanno Teramano nelle tre giornate. Sindaco, anche qualche polemica sui costi del capodanno. Se vuole chiarire chi paga, paga il Comune, pagano gli sponsor, pagano i cittadini. Quanto è costato questo capodanno ai cittadini Teramani, se ci costa qualcosa? Queste polemiche davvero sono stucchevoli, perché se qualcuno pensa che si possa organizzare un mese di eventi senza spendere una lira, il Comune non ha tirato fuori un soldo. Le risorse vengono dalla fondazione che ha finanziato una serie di eventi nel corso di questo mese, e non il capodanno. Erano risorse che non avevamo speso, causa terremoto purtroppo, perché tanti eventi erano saltati. Poi c'è stato... Dunque sono risorse di recupero, chiamiamole così. Risorse di recupero della fondazione per altri eventi, quindi per eventi che si sono svolti nel corso di questo mese. Vorrei anche dire che ci sono tuttora due mostre, quindi non è stato soltanto spettacolo, ma anche cultura. C'è una mostra dei presepi bellissima, c'è una mostra di fotografia all'ipogeo altrettanto bella, che invita ancora i cittadini ad andare a vedere perché non l'avesse fatto. Volevamo riaprire anche la Pinacoteca con tutte le nostre opere che dal museo adesso sono chiuse, però non c'è stato il tempo con la sovraindendenza, ma questo lo faremo presto. Quindi riapriremo la Pinacoteca con tutte le nostre sculture e con i quadri lo faremo nei primi settimane di gennaio. Quindi dicevo, poi c'è stato il DMC che ha dato un contributo, come è giusto che sia. Il DMC fa turismo e le ricadute devono essere sul territorio. Il BIM ha dato un altro contributo e poi il resto è arrivato un po' dal territorio, come ogni anno è accaduto. Ma davvero, io sono... a volte penso che poi quando vedo queste polemiche, che poi forse vale la pena di magari... Ecco, se avessimo fatto l'inverso e Teramo in questo mese non avrebbe avuto niente, e quindi si lasciava... magari si avrebbe avuto l'inverso. Ma io a questo non bado. Io bado alla sostanza, al nostro obiettivo. E ovviamente noi appena avremo il rendiconto, come è giusto che sia, sarà reso pubblico così... Con le cifre esatte di quello che... Con tutti i cittadini potranno vedere quello che è stato speso e da dove vengono i soldi, le risorse, ma vengono dal territorio. Come è giusto che sia, perché questo territorio è sempre stato presente. Perché io li voglio ringraziare tutti, perché sempre sono stati e hanno dato la loro disponibilità, anche con un piccolo contributo, per farsi che si svolgesse una situazione. Ma non può che essere così. E quindi, dicevo, è andata bene. Io sono contento, soddisfatto. Ringrazio anche tutta la Giunta, oltre all'assessore Canzio, che è quello che si è impegnato più in prima persona, ma direi tutta la maggioranza, per questo... ma anche tutto il Consiglio Comunale che sta dimostrando, lo devo dire in questo momento particolare, grande senso di responsabilità. E questo va dato atto anche a tutto il Consiglio Comunale in un momento difficile. C'era bisogno di, come dire, fare qualcosa di diverso? Magari, ecco, che poi è stato quello nel nostro programma, e credo che ci siamo riusciti. Mancano ancora un paio di iniziative, di eventi, perché adesso c'è la fiera della Befana, il 4, e poi c'è la Befana con i vigili del fuoco e con qualche altro evento. Anche se per il giorno della Befana le previsioni meteo ci dicono che nevicherà? Beh, è chiaro che se dovesse nevicare probabilmente i vigili del fuoco non potranno scendere né dalla scala, né da... questo lo vedremo. Però comunque, a meno che non c'è una bufera, la manifestazione della Befana si svolgerà lo stesso. È chiaro che dobbiamo capire bene le condizioni meteo, perché poi, insomma, bisogna sempre... Anche perché poi se fa molto freddo e nevica, magari i bambini non escono nemmeno, quindi non avrebbe molto senso. Vedremo, vedremo. Sindaco, in questo quadro di festività, allietate per molti terramani anche dalle iniziative che abbiamo appena illustrato, però in questo quadro c'è sempre la gestione post-terremoto, continuano gli sgombi, continuano le polemiche, perché molti cittadini non vogliono lasciare le proprie case perché non sanno dove andare, hanno dei problemi. Insomma, in questo quadro di festività si gestisce anche, purtroppo, quella che è diventata l'ordinaria amministrazione del post-terremoto. Come lei disse l'altro giorno a dei cittadini che erano venuti anche in municipio a protestare, a dire noi le nostre case non le lasciamo, purtroppo l'ordinanza sindacale va rispettata, ve ne dovete andare. Poi bisogna sistemare il prima possibile le case, tra l'altro voi e le vostre case di Villa Ripa, le case popolari di proprietà del comune le avete già sistemate, se non ricordo male, in questi giorni già le prime famiglie cominceranno a rientrare nelle proprie abitazioni. Sicuramente il terremoto non lo voleva nessuno e questo dobbiamo metterlo come primo aspetto. Sì, insomma, ci sono, ma io lo capisco, ci sono famiglie che si ritrovano dalla mattina alla sera fuori casa e nessuno vuole abbandonare il proprio tetto, i propri ambienti, la propria quotidianità, però purtroppo le regole sono queste, dobbiamo far seguito alle verifiche fatte dalla protezione civile per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. Poi è chiaro che ci sono case che possono essere sistemate con pochi lavori e sono le B, per cui, diciamo, tornano agibili con dei lavori e qui il proprietario del bene deve mettersi subito in moto, fare i lavori. In caso dell'Ater di Frondarola? Ma l'Ater o comunque qualsiasi proprietario. Chi ha una casa B può fare subito i lavori attraverso una procedura che è definita, fare subito i lavori e far rientrare nelle case le famiglie, mentre cosa diversa è sulle case di altra categoria, dove invece il discorso è un po' diverso e bisogna aspettare la ricostruzione, che partirà a brevissimo. Nel frattempo già le prime pratiche cominciano ad arrivare al Comune, stiamo aspettando questo ufficio della ricostruzione che dovrebbe, secondo l'impegno del Presidente D'Alfonso, venire qui a Teramo e noi lo localizzeremo presso il Parco della Scienza, dove ci sarà una struttura proprio dedicata al terremoto, dove il cittadino potrà trovare tutte le risposte, in modo da evitare disagi ai cittadini che ne hanno già tanti. E' chiaro che poi c'è qualche cittadino che non accetta, però anche qui c'è una procedura, cioè se c'è un cittadino che ritiene che quella valutazione non sia giusta, c'è la possibilità di fare tutta una trafila, che posso anche dire attraverso una perizia asseverata, di un tecnico di fiducia, chiedere un nuovo sopralluogo. E a quel punto la posizione civile torna, magari con una squadra diversa, a verificare se quella valutazione di quei due tecnici, che sono pur sempre tecnici e hanno una soggettività nella valutazione, sia effettivamente di questo, diciamo, confermi quella categoria. Se la dovesse confermare a quel punto, ripeto, bisogna ora cercare di imboccarsi le maniche e lavorare. Purtroppo il patrimonio ATER è uno dei problemi più grandi che abbiamo, perché è un patrimonio ATER che non esiste quasi più, per tutta una serie di motivazioni. Io però mi sono sentito col Presidente, mi sono sentito con il Segretario Generale, anche con i tecnici, abbiamo fatto diversi incontri. Lì adesso si può ripartire, sulle B si possono fare i lavori. I cittadini dell'altro giorno erano cittadini di Frondarola, che non volevano lasciare le proprie case, però anche lì bisogna rispettare quella che è l'ordinanza. Si va negli alberghi, se è possibile, o si va nelle abitazioni. Nelle abitazioni qualche problema ci comincia ad essere, sul fatto che le abitazioni disponibili sono sempre meno e che qualcuno, insomma, come dire, secondo me sta andando un po' oltre, perché chiedere tre mesi di anticipo e chiedere un anno di contratto non va bene. Infatti chi deve lasciare la proprie abitazione e andare poi in affitto lamenta soprattutto questo aspetto. Dicono, noi non abbiamo i soldi per pagare tre mesi di anticipo, soprattutto perché ci costringono ad un contratto di un anno quando magari a noi bastano solo tre mesi. No, questo non è possibile. Adesso su questo io ho passato le feste, interverrò anche attraverso organi istituzionali, perché io capisco che anche la gente immobiliare voglia garantirsi, come dire, giustamente l'affitto, però credo che la maggiore garanzia sia il comune, perché poi è il comune che deve rogarvi i soldi ai cittadini, per cui se il cittadino non paga, basta rivolgersi al comune e quel cittadino... E' il comune che fa da garanti in questo caso ai cittadini. Ma non c'è dubbio, quindi questo rischio non c'è. Secondo aspetto è che non si può chiedere un anno di contratto se il cittadino dopo sei mesi ha una casa B e può rientrare, perché deve continuare a pagare sei mesi. Quindi va registrata questa cosa, non sto accusando nessuno, però dobbiamo tutti avere un senso di responsabilità da questo punto di vista e credo che supereremo con qualche difficoltà, perché i problemi ci sono, a me dispiace... Anche perché gli sgommeri continuano, ogni giorno ce ne sono di nuovo. Abbiamo ancora 2.000 rotte verifiche da fare per completare la fase di emergenza. A me dispiace che qualcuno, che qualche attività commerciale abbia deciso di andare, diciamo, da un'altra parte. Sono questo un po' perché... Un centro storico anche. Sì, perché io credo che, insomma, questo sisma vada combattuto tutti quanti insieme. Quindi anche il rilancio della nostra economia vada fatto... Però è chiaro che non è un critico, non giudico le scelte di chi ha deciso in maniera diversa. Sindaco, ci sono intanto dei messaggi per lei, li possiamo leggere insieme. Buongiorno per via Nicola Dati, pensare ad un senso unico, ad uscire col senso unico, a scendere da via dei Vincentis. Non so se sotto ci può essere un raccordo sulla viabilità, ma l'uscita delle scuole è un massacro. Il problema di via Nicola Dati è un problema che c'è oggettivamente. C'è sempre stato, a dire il vero. Ora, abbiamo ragionato su questo discorso di fare un senso unico. Non è facilissimo, perché secondo me andiamo ad intasare altre strade. Bisogna pensare qualcosa di alternativa per l'entrata e l'uscita dalle scuole. Si pensava al pedibus, però poi abbiamo avuto qualche difficoltà organizzativa insieme alla preside. Vedremo, insomma, il discorso del sistema scuole va comunque ripensato. Lì a via Nicola Dati qualche problema c'è, perché poi giustamente i genitori lasciano la macchina per accompagnare il figlio e il traffico si blocca. Buongiorno. A quando i parcheggi per i residenti nel quartiere di Largo Melatini a giugno aveva detto che a dicembre sarebbero stati già attivati, ma dicembre è trascorso. Può comunicarmi una data certa? Adesso proprio no, perché purtroppo abbiamo diversi immobili che sono dichiarati inagibili e l'inagibilità degli immobili non ci permette, ci dobbiamo transennare. E quindi il numero degli stalli disponibili sono notevolmente ridotti. Quindi stiamo facendo una riflessione per capire di quanti stalli abbiamo, diciamo, restano per capire se... però non è che viene bloccato questo percorso che continuerà. Dirle una data certa oggi non ce la faccio, abbiamo detto dicembre, ma evidentemente credo che anche lei comprenderà quello che è successo. Comunque il percorso continua. Adesso c'è un momento di verifica, tutto qui, perché, ripeto, gli stabili inagibili sono diversi. Andiamo con gli altri messaggi. Oggi la festa bella sotto i punti di vista. Bisogna liberare via Vinci Guerra. Si mettono i cartelli di divieti di sosta e parcheggiano tutti tranne i residenti. E le multe è niente. Le macchine passano tutte per via Vinci Guerra. Vergognoso, stiamo raccogliendo le firme, le polveri sottili, lo smog al massimo, ma ve ne rendete conto? Siamo stufi, ma il sindaco lo nota o no? Problema di via Vinci Guerra, sindaco. Ma insomma, problema di via Vinci Guerra, sì, sicuramente, adesso è una zona dove il traffico... Però, allora, sul discorso delle polveri sottili, noi abbiamo i dati, siamo uno dei pochi comuni dove questo problema non l'abbiamo avuto neanche nel periodo dove, diciamo, durante il periodo in cui nelle altre città, tipo Pescara, dovevano chiudere e è diventata zona rossa Pescara da questo punto di vista. Però è chiaro che ci sono delle zone della città dove il traffico si concentra ancora di più. Io su questo, sul discorso dei parcheggi e del traffico, durante il Capodanno ho parlato con il comandante e con il vice comandante Finocchi e dopo la Befana, insomma, è un momento di bocce ferme. Faremo un po' di riflessione sui controlli da fare perché, diciamo, a caso, un po', ripeto, sicuramente anche del terremoto abbiamo dovuto pensare ad altri. i vigili hanno fatto un lavoro enorme perché poi vanno ringraziati tutti i dipendenti comunali per il grande lavoro svolto, però, insomma, un giro di vite sui controlli va fatto e il cittadino ha ragione. Poi sul discorso del traffico... Quando questa città non sarà più denigrata dai stessi cittadini allora tornerà ad essere capoluogo. Ho letto commenti schizofrenici da parte di molti. Forse però chi si lamenta non è mai uscito di casa. Da terramano vero non mi sento inferiore a nessuno. Buon anno a tutti, buon anno a Terramo. Ce lo dice Gabriele Sturba. Ti salutiamo. Io sono d'accordo con Gabriele. Siamo, diciamo, una popolazione che fa molta autocritica, forse troppa, perché l'autocritica è giusta, però forse troppa ci critichiamo sempre, ci critichiamo addosso, se così posso dire, seppure non è corretto. Basta uscire fuori, come dice Gabriele, basta andare fuori e vedere cosa accade nelle altre città, cosa hanno fatto altre città e, insomma, magari, come dire, capire che poi alla fine non è proprio l'orto del vicino, non è sempre più bello. Però questo, voglio dire, insomma, chi fa l'amministratore su questo ci deve aver fatto il callo, altrimenti non lo può fare l'amministratore, soprattutto il sindaco. Sindaco, capitolo politica, capitolo giunta, il terremoto ha frenato le manovre politiche, qualcuno ipotizzava la caduta dell'amministrazione Brucchi a fine anno, poi è arrivato il terremoto, insomma, anche le questioni politiche sono state accantonate, però si ricomincia a parlare di, dopo il referendum, insomma, ci sono state delle novità e si ricomincia a parlare di un nuovo rimpasto, nuove entrate in giunta, stamattina anche in rassegna stampa sulla città abbiamo letto delle ipotesi, il fatto che entri in giunta Dodo Di Sabatino un esponente della sua lista oramai credo sia insomma un dato certo. Paolo, io non credo che... Intanto la notizia di oggi è che la giunta è decimata, ma non decimata dal sindaco Brucchi ma dall'influenza, che stamattina abbiamo rischiato di non avere neppure il sindaco perché sta male anche il sindaco. Tutti abbastanza acciaccati, insomma, però comunque continuiamo a lavorare abbiamo, insomma, ci sono alcuni assessori anche lo stesso... L'influenza non risparmia nessuno. Ma io non credo che nessuno diciamo avesse in mente di far cadere questa amministrazione a prescindere dal terremoto perché io devo dire che c'è una maggioranza gruppi consigliari molto forti molto coesi. Poi magari le scelte che uno decide di fare le fa e se ne assume anche la responsabilità politica nei confronti dei cittadini che hanno votato e che hanno detto che bisognava amministrare questa città per altri cinque anni. Il terremoto e così come anche il referendum hanno modificato un po' anche l'atteggiamento politico perché davvero sarebbe dei responsabili in questo momento fare qualsiasi cosa che non sia quella di essere presenti di stare sul pezzo di lavorare di dare le risposte ai tanti cittadini che ce le chiedono. Sul discorso della situazione politica io a Teramo soprattutto l'assessorato l'avevo già proposto quando fu fatto il rimpasto e eravamo soprattutto decise di non entrare in giunta però di appoggiare questa maggioranza e quindi chiaro se adesso questa è la scelta devo dire che non ci siamo sentiti durante queste feste perché a parte l'emergenza terremoto ma ci sentiremo subito dopo diciamo le festività ma non c'è nessun problema perché tra l'altro in questo momento la giunta è a sette quindi io e l'assessore eravamo partiti con una giunta a otto adesso siamo a sette per cui devo dire che forse siamo una delle giunte con meno assessori di comuni capoluogo con l'entrata di Teramo soprattutto si torna ad otto o si elimina un assessore che già c'è? Adesso questo diciamo non è all'ordine del giorno nel senso che non ne abbiamo parlato lo vedremo ma voglio dire una giunta a sette c'è spazio assolutamente c'è spazio perché credo che siamo una delle giunte con meno assessori di comuni capoluogo perché non mi risulta che ci sono comuni capoluogo che hanno sette assessori tra l'altro sette assessori lo voglio ribadire che si sono ridotti ulteriormente del 20% l'indennità per queste cose poi sembrano scontate però di fatto non lo sono vanno sottolineate ogni tanto di come queste amministrazioni in questi anni al netto di cose che sono andate bene meno bene però insomma Teramo non è male amministrato non lo è mai stato non lo è mai stato in tutti questi anni da quando ha fatto il sindaco Gianni Chiodi e poi a Gianni Chiodi ha fatto seguito diciamo il Brucchi 1 e poi il Brucchi 2 non è stata mai male amministrata e Teramo è cresciuta poi è chiaro che ognuno fa il proprio lavoro però ecco vedremo però si rimette la mano all'aggiunta entro quanto tempo? no guardi adesso adesso non è il momento non ci diamo non ci diamo scadenze potrebbe accadere domani e potrebbe accadere tra un mese non è questo il problema il problema è che ripeto in questo momento c'è bisogno di una presenza politica io dico di tutto il consiglio comunale l'altro giorno prima di prendere la decisione che poi era una decisione diciamo obbligata io però così come avevo promesso ho convocato l'intero consiglio a parlare delle scuole e lo farò anche attraverso un calendario che andremo a preparare nei prossimi giorni per tutte quelle che saranno una serie di scelte da fare quindi questo credo che che è la priorità per questo territorio perché da questo terremoto purtroppo passa anche il futuro di Teramo purtroppo ci sono altri messaggi per lei sindaco andiamoli a leggere insieme sito museale chiuso cooperativa Reis perché prende soldi non abbiamo troppe altre necessità cooperativa Reis non prende i soldi perché la cooperativa Reis prende i soldi solo se lavora quindi nel mese in cui non ha lavorato non ha preso una lira perché questo prevede il contratto quindi tranquillizzo il cittadino la cooperativa Reis non prende soldi prende soldi solo quando lavora e in base al numero di ore che fa per cui se il sito museale è aperto e fa dieci ore viene pagato per dieci ore per cinque ore per cinque ore per zero ore per zero ore mi auguro che con la riapertura del corso non venga riaperto l'ultimo tratto alle auto la pavimentazione durerebbe pochi mesi a proposito sindaco perché intorno a questa pavimentazione c'è anche una sorta di mistero pavimentazione taroccata cinese arriva non arriva c'è la pavimentazione del corso la pavimentazione c'è è taroccata viene dai paesi dell'est voglio dire la pietra però c'è insomma quando che comincerete la pietra da dovunque viene pietra la pietra che diciamo che oramai non ha subito neanche un minimo di come dire di spostamento dei giardini carino gambacorta al netto della parte in legno ma la pietra non si è mossa e la pietra viene dall'India quindi voglio dire non è proprio dove viene una pietra il problema è che la pietra anche l'arrivo di questa pavimentazione la pietra c'è arrivata i lavori li prenderanno subito dopo le feste tempo permettendo si comincia subito con la pavimentazione ma la parte che ci chiedevano verrà riaperta al netto dell'ex stand diciamo così dovremmo fare ancora qualche lavoro nella parte finale perché diciamo per chiudere abbiamo lasciato qualcosa in sospeso sono due pezzi ma c'è appena ancora da demolire e c'è da fare un piccolo reintervento per il ruzzo però poca cosa di qualche giorno e allora questo diciamo che apre già uno scenario fra chi è favorevole e chi è contrario io personalmente sono contrario alla riapertura cioè il corso deve essere pedonalizzato fino a Piazza Garibaldi la rotondina seppure con qualche difficoltà comincia a funzionare perché poi bisogna abituarsi ci sono dei momenti in cui c'è un po' più fila è innegabile però tutto sommato funziona quindi ha bisogno ancora un po' di essere erodata però io ritengo che quella sia bisogna ragionare un po' di più sulla viabilità della scuola San Giorgio perché poi quella la mattina crea qualche disagio nel caso in cui si decidesse di non riaprire la viabilità io ritengo che dobbiamo andare verso una maggiore pedonalizzazione della città siamo nella classifica recente sulla viabilità della città uscita qualche giorno fa siamo diciottesimi primi in Abruzzo e diciottesimi a livello nazionale quindi rispetto alle altre città abruzzesi che sono invece in fondo su alcuni aspetti siamo davvero da primato quindi questo ci fa piacere secondo me dobbiamo andare ancora di più su questa strada attraverso i percorsi ciclopedonali stiamo portando avanti un progetto insieme a Lazzu sulla pedalata assistita insomma devo dire credo che questo sia il futuro la risposta su via Vinci Guerra mica la data con la riapertura del corso si tornerà come prima la riapertura del corso io vorrei capire che cosa il telespettatore vuole sapere su via Vinci Guerra la data ritiene che sia intasata troppo dal traffico e che ovviamente ha aumentato lo smog e tutte le problematiche che con un aumento di traffico ci sono alcune zone della risposta era questa ci sono alcune zone della città che subiscono a causa dei lavori diciamo maggiore traffico rispetto ad altri vediamo un attimino come gestire alcune situazioni quindi faremo una riflessione anche su via Vinci Guerra questo posso dire al telespettatore sicuramente oggi non ho la bacchetta magica per risolvere questo problema altro messaggio buongiorno bella rotonda al Promenade complimenti ho notato abitando in via De Paulis che moltissimi studenti scendono al centro a piedi penso che sarebbe opportuno per la loro sicurezza pensare a realizzare dei marciapiedi buon lavoro devo dire che abbiamo fatto già una riflessione su questo discorso dei marciapiedi però comunque la sicurezza degli studenti devo dire che è garantita quella rotonda funziona complimenti all'assessore Fracassa che ha avuto quest'idea come dire una vena artistica poi ci diceva che ci sarà un'inaugurazione ce lo disse l'assessore Fracassa con il sindaco di Aprilia dove lì è il patrono San Michele Arcangelo e c'è una statua uguale a quella di Tera quindi faremo dopo la Befana questa inaugurazione l'assessore è così da organizzata insomma io devo dire che su questo discorso delle rotonde dove per mesi siamo stati criticati secondo me ingiustamente e l'hanno definita il sindaco delle rotonde ma benvenga il sindaco delle rotonde io credo che oggi il semaforo credo che sia una scelta oramai antiquata per lo meno in città che se lo possono permettere e città che non se lo possono permettere non manda i semafori a Teramo abbiamo tutto un sistema di rotonde di cui alcune anche molto belle che rendono più bella la città ma a Teramo siamo stati capaci di criticare anche la famosa rotondo vale che ora possiamo dire quello che vuole che possiamo tutto quello che vogliamo ma funziona però non è rotonda è un ovale però voglio dire funziona però siamo stati capaci di criticare anche quella così come critichiamo le altre rotonde io credo che la rotonda funge da dissuasore perché ti fa rallentare e chi non rallenta poi va contro la rotonda e quindi parliamo di città parliamo della sicurezza funge da dissuasore quindi riduce anche i rischi certo per chi pensa di stare l'autodomo di Monza probabilmente la rotonda non funziona c'è un altro messaggio mi scusi se la interrompo sindaco un pensiero per i visitatori che si recano a Teramo in camper lo avete l'area della gammarana è vero è un problema tavico è un problema storico su questo c'è l'area della gammarana che è prevista per i camper però deve essere meglio attrezzata il cittadino ha ragione diciamo l'area è completamente sporca credo sia riferito sempre allo stesso messaggio non c'è un bidone per la spazzatura l'erba non viene mai tagliata così Teramo accogli i turisti e non mi dica che è colpa solo della cattiva educazione di chi usa quell'area chiedono un pochino più di attenzione per l'area io questo non l'ho detto quindi il cittadino è andato avanti non ho detto che è colpa della cattiva educazione che poi il senso civico di ognuno di noi debba essere maggiormente sviluppato il ponte San Gabriele intanto lei prenda insomma nota sindaco di questa cosa se potete intervenire sull'area il cittadino mi segnale che io conosco conosco ci vuole qualche risorsa in più da dedicare alla sistemazione di quell'area il problema è sempre quello il ponte San Gabriele è stato ispezionato con il drone dei vigili qual è l'esito del sopralluogo inoltre sarà sistemato almeno l'asfalto no sarà sistemato il ponte sarà sistemato il ponte la procedura per la sistemazione del ponte è iniziata lo farà l'ANAS poco prima delle feste di Natale nel farmi gli auguri con il capo compartimento ANAS regionale mi ha spiegato che adesso tutta diciamo la documentazione è a Roma presso l'ANAS nazionale e daranno il via libera per la messa e la sistemazione del ponte sia di ponte San Gabriele e anche di ponte San Francesco quando verrà inaugurata la rotonda dell'8-0? spero presto spero presto è una storia infinita perché per tutta una serie di problemi che diciamo si vabbè però adesso manca la segnaletica verticale dopodiché che dovrebbe essere montata a giorni e dopodiché possiamo finalmente inaugurare perché l'opera è pronta l'asfalto è stato fatto la segnaletica orizzontale è stata fatta è stato fatto il tappetino c'è tutto manca solo la segnaletica verticale che spero in questi giorni verrà finalmente dall'impresa montata e poi potremo aprire quest'altra importante opera che andrà ancora di più a risolvere i problemi del traffico nella nostra città soprattutto anche alla luce del polo scolastico che andremo spero di avere la conferma nella giornata di oggi a realizzare proprio lì sulla D'Alessandro sulla viabilità abbiamo fatto molto presto inaugureremo anche la famosa strada castellanica la bretella che dalla rotonda ovale arriva fino a Villa Mosca ed è un'altra strada importante che andrà a risolvere a migliorare i problemi di traffico che ci sono diciamo derivanti da tutto il traffico che scende un po' dalla parte alta nella zona di Villa Mosca e dell'università Teramo insomma devo dire che sulla viabilità abbiamo fatto molto signor sindaco non si può nascondere che Teramo è una città strana in tutti i comuni vengono perseguitati e puniti dipendenti fannulloni mentre a Teramo si punisce chi lavora l'ho letto sul web ma questa cosa l'ho letta anch'io stamattina mi ripropongo di verificare quello che Giancarlo Falconi ha scritto per capire che io non ne sono al corrente voglio capire che cosa è successo chi è questa dipendente che è stata punita perché ha lavorato di più se così fosse non la ritengo una cosa di più se qualcuno che vuole lavorare di più e durante il terremoto devo dire tanti hanno dato oltre quello diciamo necessario o sufficiente e quindi insomma non lo so devo verificare chi lavora di più non va punito sicuramente va elogiato però forse c'è qualcosa che non conosciamo e che dobbiamo verificare prossimo messaggio abbiamo altri messaggi dobbiamo correre ci scusiamo se siamo andati oltre il tempo di questa trasmissione ma quando c'è un amministratore io consiglio al cittadino di venire ma si rischia di andare sotto le macchine sempre via vinci guerra io consiglio al cittadino di prendere un appuntamento per la prossima settimana diciamo con me e magari ci sediamo a tavolino e cerchiamo di discutere meglio su via vinci guerra sicuramente non è un discorso che possiamo fare attraverso via messaggi purtroppo non si capiscono bene i dettagli via messaggio per cui è meglio approfondire mi vengo a trovare e parliamo di via vinci guerra in maniera più approfondita dovete fare qualcosa per le vie dietro per le vie dietro via della banca passateci la mattina è vergognoso lo lezzo e pozze che non si assorbono più di urina non parlate di maleducazione oramai troppo tempo e date delle risposte insomma ci deve risolvere ci deve risolvere voglio dire se adesso io capisco il problema mi rendo conto ma se ci sono maggiori controlli qualcosa per possiamo pulire e fare i controlli a qualsiasi ora però non mi può dire che non possiamo parlare di maleducazione che a me non verrebbe mai in mente di fare diciamo i miei bisogni in mezzo alla strada magari troverei un posto o tornerei a casa insomma non è che è automatico il fatto che uno fa i propri bisogni in mezzo alla strada non dobbiamo dire che no qual è la soluzione che dobbiamo mettere un bagno per ogni strada o a via della banca in particolare mettiamo via della banca purtroppo ci sono cattive abitudini io direi che c'è maleducazione perché di questo si tratta perché non si fa la pipì in mezzo alla strada o qualsiasi altra cosa quindi diciamo che il problema è proprio questo io non so quale soluzione magari se il cittadino me la vuole suggerire una soluzione per rimediare a questo la telecamera può essere un deterrente non credo perché tanto poi chi in quel momento ha un'urgenza in qualche però insomma la conosco bene la situazione ci conosco anche il cittadino abbiamo però tante volte ha ragione non dico che non ha ragione però dobbiamo trovare una soluzione insieme l'unica soluzione che mi viene in mente è quella di posizionare una telecamera che era prevista poi per tutta una serie di situazioni non è stata posizionata in quella zona però insomma è un problema che accade quando ci sono tutta una serie di manifestazioni e su questo per esempio questo capodanno è andato bene perché alla fine i bagni chimici c'erano i cittadini sono stati educati la città la piazza è stata lasciata pulita la tema ha fatto un ottimo lavoro perché devo dire che la tema in questo mese è stata diciamo a fianco all'amministrazione comunale ha pulito tutte le sere insomma abbiamo trovato sempre la piazza pulita questo però anche i cittadini si sono molto ben comportati Sindaco noi la salutiamo la ringraziamo per essere per aver accettato il nostro invito nonostante gli acciacchi di stagione qualche malanno di stagione sì no io ringrazio voi insomma è la prima come dire la prima uscita che faccio dopo il capodanno io credo che insomma il 2017 non sarà un anno facilissimo io spero che sia migliore del 2016 però sarà un anno in cui Teramo diciamo si gioca molto si gioca molto perché bisognerà fare delle scelte importanti post purtroppo post sisma post terremoto e queste scelte io le voglio condividere con tutto il consiglio comunale e con tutta la città per chi vorrà comunque partecipare a queste scelte dobbiamo come dire c'è bisogno che una comunità adesso si ritrovi ad essere comunità ed era anche questo un po' l'ospito di questo dicembre se così possiamo dire festeggiante e dicevo la comunità si deve ritrovare comunità c'è bisogno dell'aiuto di tutti e se posso abbiamo bisogno di meno critiche e quelle che ci devono essere costruttive questo è un invito cioè critichiamo l'amministrazione critichiamo le cose che non vanno in maniera costruttiva non tanto per criticare perché non serve non aiuta non serve a nessuno e non porta niente fa avere questo atteggiamento invece fare una critica costruttiva una critica che serve per risolvere un problema come il signore che ci diceva di Venci Guerra credo che sia opportuno quindi da parte mia c'è un altro messaggio sindaco in via della Plata incrocio via Aurini pericolo traffico troppo vicino ad un parco molto frequentato punto calcetto fare diversamente per bretella per università grazie molto tecnico questo messaggio dovrò capire bene sicuramente ci metteremo ci faremo una riflessione quindi dicevo il mio augurio è un po' questo al netto di tutte le cose belle o brutte che accadranno è quello di ritrovarsi comunità io sono a disposizione come lo sono sempre stato di tutti i cittadini terramani e della mia città e l'invito e insomma anche per tutti gli altri grazie grazie sindaco buona giornata e buon anno ovviamente anche a lei grazie anche a voi grazie anche a voi per l'attenzione questa trasmissione come sempre torna in diretta anche domani mattina dalle 7 alle 8 e domani mattina troverete Daniela Facciolini grazie ancora e buona giornata grazie a tutti